Stato da soldi per qualunque merda e non da soldi per la bellezza, da soldi per distruggere e non da soldi per la bellezza. Rinascimento, rinascimento vuol dire la cosa più bella che il mondo abbia pensato e concepito in Italia, vuol dire città italiane, vuol dire anche però nella sua semplice denominazione il desiderio di rinascere e come si potrà rinascere in Italia se non attraverso la bellezza? Quando guardiamo qualunque luogo d'Italia, anche quello che è stato più umiliato, vediamo un luogo che in nessun'altra parte del mondo ha bellezza, grandezza e tra i luoghi più belli del mondo c'è Urbino nel Montefeltro, sfiorato da un terremoto che ha portato via molto turismo a Umbria e Marche, ma in realtà lì siamo al confine con la Romagna, in un luogo meraviglioso dove Federico da Montefeltro ha pensato una città ideale, la città ideale in quanto tale non c'è, invece è una città ideale diventata reale, io ho voluto, lì ho fatto, faccio l'assessore alla rivoluzione, quindi ho pensato con molta fatica perché la città è lontana, la politica è sempre difficile, i soldi non ci sono, lo Stato dà soldi per qualunque merda e non dà soldi per la bellezza, dà soldi per distruggere e non dà soldi per la bellezza e allora faticosamente abbiamo realizzato questo rinascimento segreto, segreto perché sono opere poco viste, sconosciute e tra l'altro il miracolo è che mentre questa mostra si apre alla vostra attenzione è capitato veramente come se la provvidenza fosse intervenuta un miracolo, si è recuperata a un'asta una parte di una pala rubata nel Duomo di Urbino, un martirio di San Sebastiano che aveva un bambino, un bambino piccolo sotto che è stato tagliato da un cretino, da un deficiente, da una testa di nulla, di nulla diciamo, che l'ha portato via, dopo 30 anni un bravo antiquario che si chiama Ciarodi l'ha identificato in un catalogo d'asta, i carabinieri l'hanno recuperato e lo porteranno, io ho parlato con il vescovo, con il comandante dei carabinieri, lo porteranno a Urbino per rimetterlo insieme alla pala del Duomo e tutto sarà nello stesso spazio espositivo dove c'è la mostra di cui è tenuto in questi capolavori e in un museo che si chiama Oratorio del Santissimo Crotifisso della Grotta, si sente sotto nella grotta e si ritrova quest'opera che sembra un po' il segno e la comunicazione per una mostra nella quale si parte da un dipinto che non c'è ma mi diceva porro della mistificazione, del falso, quel dipinto che vedete è un capolavoro dell'arte italiana che è stato attribuito per anni e anni e anni a Caravaggio, in realtà non lo è, rimane un bellissimo dipinto, il pittore si chiama Spadarino, io una volta in televisione ho fatto quasi morire il ministro dei beni culturali perché era tutto emozionato con Vespa a guardare il dipinto, finalmente un Caravaggio in uno studio, finalmente un Caravaggio, tu Vittorio cosa pensi? Mi fa piacere la vostra commozione, peccato che non sia Caravaggio, sono stati stremati da questo, però il dipinto rimane bello e questo prova che ci sono grandi autori anche poco conosciuti, a suo fianco c'è Ludovico Brea, un meraviglioso pittore che lavora tra Liguria e Francia e che dà quest'idea di una maestà della bellezza divina, è una regina più che una Madonna e qui vediamo il manifesto della mostra di un grande artista che si chiama Antonio Laclevalcore che io più di 30 anni fa ho scoperto in una castello in Francia con opere bellissime che venivano probabilmente da San Petronio o Bologna e di un autore totalmente dimenticato, era una nota nei libri, l'ho identificato, l'abbiamo studiato con attenzione, Antonio Laclevalcore, guardate la meraviglia di quella Madonna che richiama la maestà di Piero della Francesca, l'eleganza, la bellezza, il bambino che si slancia verso di lei e i due che guardano con molta tenerezza, ma bellissimo è il tappeto piegato alle spalle, sono le pieghe di quando tu tieni una cosa nel guardaroba con un'intuizione che dà senso proprio della bellezza dei dettagli, questo che vedete sotto è un pittore di Pesaro che è stato identificato dallo stesso antiquario Ciaroni che ha trovato il Barocci perduto e poi intorno vedete Agostino di Duccio, lo scultore che sembra lo scultore del periodo Liberty e che ha lavorato invece nel 400 a Perugia facendo cose meravigliose con un segno leggero e poi vediamo quella scultura meravigliosa di Matteo Civitali che è il più importante scultore del 400 a Lucca e quello, lo vedete anche, devo dire che è talmente bella la riproduzione che sembra reale, viene dal museo di Rotterdam ed è poi tornato in Italia ed è una scultura di una collezione privata segreta, questo che vedete invece che non so ancora di chi sia perché io l'ho pescato ma non ho capito bene chi sia poi alla fine ad averlo acquisito è Cola della Matrice, un pittore amico di Raffaello e grande come Raffaello che è quello che è nato nella città colpita dal terremoto e che in qualche modo qui ricordiamo attraverso un'opera in cui si vedono le due famiglie, la famiglia di San Giovanni Battista e la famiglia della Madonna, stanno insieme in una specie di parentela in un ritrovo a casa in cui ci sono Zaccaria ed Elisabetta, la Madonna e San Giuseppe. Sotto il pittore della mia tesi di laurea, Giovanni Buon Consiglio, il pittore che diceva Longhi è poeta di un solo dipinto, io per pensare di lavorare di meno, poi ho scoperto che ho fatto un sacco di dipinti ma uno soltanto era un vero capolavoro, qui vediamo il grande pittore, il più importante pittore di Foligno che si chiama Nicolò di Liberatore, detto Nicolò alunno che apre alla strada di Perugino e dei grandi pittori, anche Raffaello in questa bellissima pietà e poi da ultimo un pittore piemontese, defendente Ferrari, quindi ogni scuola d'Italia è rappresentata e voi dovrete andare a Palazzo Ducale e a Urbino, a Fano al Museo archeologico e a Pesaro del Museo Civico vedendo divise per scuole queste opere del grande rinascimento sconosciuto ma davanti ai vostri occhi per la grandezza dell'Italia che è il più bel paese del mondo.